Laudetur Jesus Christus, cari radioscoltatori, è Pierluigi Bianchi Cagliesi che vi parla per la trasmissione settimanale di Approfondimenti. Come avevo anticipato qualche tempo fa in questa trasmissione io parlerò di una questione abbastanza importante che qualcuno potrà dire ma questo diciamo che cosa ha a che fare con i commenti sulla situazione presente ma vedrete che c'è un nesso logico che ci lega in qualche modo alla nostra situazione presente per cercare anche di capire come muoverci in questo contesto così difficile in cui viviamo, in questa grande confusione che stiamo attraversando che ricorda molto storicamente quello che accadde nell'Europa durante il crollo dell'impero romano d'occidente in cui la civiltà di quell'epoca si trovò sottoposta a un attacco senza precedenti da parte delle popolazioni barbariche. Molti di voi avranno sentito parlare di quella che è stata chiamata da un autore americano l'opzione Benedetto. Che cos'è questa opzione Benedetto è praticamente una considerazione e anche una riflessione che stanno facendo molti ambienti cattolici tradizionali su quelle che possono essere le prospettive e le alternative in un momento in cui non soltanto la dottrina cattolica viene frantumata e la stessa comunità cristiana vive un momento difficilissimo ma c'è un tentativo di isolamento, un tentativo di confusione, di disperazione da parte di tante persone in cui bisogna ritrovare motivi di aggregazione e anche motivi per poter iniziare un'opera seria di ricostruzione. Di fronte al crollo dell'impero romano nel secolo VI San Benedetto non si limitò a ritirarsi dal mondo ma le comunità monastiche fondate da lui e dai suoi successori divennero dei luoghi di pace, di pietà, di erudizione proprio a partire dai quali da civilizzazione europea poté gradualmente riemergere. Quindi l'idea di questa opzione Benedetto che è un punto di partenza per una riflessione ci aiuta in qualche modo a costruire le forme locali in qualche modo di una comunità, di una modalità nuova di riunirsi, di riaggregarsi tra i cattolici fedeli all'interno di cui cominciare a rimettere ordine e ricostruire gli elementi fondamentali della civiltà e della vita intellettuale, morale e spirituale per conservarle soprattutto nei grandi e difficili momenti che stiamo attraversando. Per capire un attimino di più credo che sia utile tornare a capire che cosa è stata e cosa fu la grande provvidenziale azione di San Benedetto in un momento storico difficilissimo. Voi sapete che l'azione di San Benedetto partì proprio dalla edificazione di questi monasteri, i Cenobi, che in quel contesto particolarissimo e difficilissimo che viveva la civiltà romana, pensate appunto alla situazione in cui le città diventavano preda di queste orde di barbari, la situazione stava precipitando completamente ed ecco San Benedetto con questa intuizione provvidenziale costruisce dei centri di vita religiosa e poi questi centri di vita religiosa in qualche modo si ampliano perché diventano luoghi di rifugio di famiglie, di persone che scappano dalle città, che trovano in questo un punto di riferimento e quindi San Benedetto in seguito proprio all'aumento delle presenze, delle famiglie, anche di tantissime realtà che si andavano sempre di più concentrando intorno a questi monasteri, dovette cominciare a dotarsi di nuove strutture, assumendo sempre di più anche un marcato ruolo culturale e proprio a partire da qui sorse tutto il secolare e notissimo fenomeno degli amanuenzi che attraverso i codici trasmissero alle generazioni future quasi tutta la totalità della produzione classica e dei padri della chiesa, quindi non si trattò solo di un ricopiare i testi del passato, di organizzare le biblioteche, ma del fiorire di novità linguistiche e concettuali sotto la guida e l'ispirazione dei padri della chiesa che restituirono alla sapienza pagana la capacità di ricostruire proprio qualche cosa di assolutamente nuovo. Pensate proprio a questa vita, questa nuova vita dei monaci che non si limitava a pregare in modo massiccio ma anche a lavorare a lungo con fatica perché essere monaco fin dall'inizio significa proprio dissodare, liberare dagli sterpi, drenare, prosciugare, irrigare, arare, mietere e poi ancora di più con l'ausilio di tutte le persone che si aggregavano, che arrivavano, che cercavano luoghi dove poter continuare a vivere, anche l'opera di dirigere, di coordinare, di sorvegliare il lavoro dei campi, dei vigneti e poi l'allevamento del bestiame, il saggio sfruttamento delle foreste. Pensate che proprio il bosco, come è concepito oggi, che la differenza che esiste tra il bosco e le foreste è che la foresta è un luogo incolto dove alberi di tutti i generi nascono, si intrecciano in una situazione intricata, caotica e i monaci benedettini mettono ordine alla foresta e cominciano a piantare per esempio alberi di un solo tipo e quindi la selezione degli alberi in una zona particolare adatta a quel terreno fa nascere il bosco. Il bosco è l'ordine all'interno del caos della foresta. L'idea della foresta tra l'altro è interessante ricordarlo, che è un po' il mito di certi ambienti ecologisti e naturalisti che vedono in questo caos proprio la libertà dello sfogo della natura senza un ordine, senza una violenza in qualche modo da parte dell'uomo. In questo sviluppo, in questo recupero della civiltà nascono le grandi invenzioni, si sviluppa un lavoro sempre più articolato, i vivai dei pesci, gli alveari e lentamente attorno proprio al monastero inizia ad operare una manovalanza di laici e anche di monaci e vengono edificati poi casolari per ospitare le famiglie dei contadini, degli allevatori, delle persone che trovano rifugio. Quindi vengono divelti gli altari dedicati alle divinità pagane e sostituiti con edifici per il culto cristiano. Quindi si mette in moto qualche cosa di molto simile a un'azienda vera e propria, inizialmente agricola, sui generis, che però non si limitava al puro fatto tecnico, ma i cui membri accedono anche al culto, quindi la nascita di una cultura, alla letteratura, alla scrittura. Quindi conversione e crescita materiale iniziano a svilupparsi parallelamente. E nel giro di poco tempo i monaci più istruiti e meno sedentari dei contadini sono quelli che offrono assistenza tecnica, che pensano idee efficaci per sviluppare il lavoro, tutto in modo generoso, gratuito, e danno in qualche modo una risposta a queste invasioni barbariche, ponendo una radice di civiltà. I Benedettini, insomma, per forza di cose e per i loro fattori di conoscenza, diventano in quell'epoca i portatori del sapere, delle applicazioni pratiche, un vero e proprio vettore di progresso. E pur smettendo molto presto di occuparsi manualmente la terra, i monaci medievali diventarono gestori di grandi attività, educatori economici, istruttori illuminati di una massa di persone che attorno a loro trovavano tutte le ragioni per ricominciare a vivere sotto uno stimolo che era prima di tutto spirituale ma poi anche materiale. Il monastero deve, nei limiti del possibile, essere organizzato in modo tale che vi si trovi tutto il necessario, cioè dell'acqua, il murino, la farina, l'orto, le botteghe, i negozi in cui sia possibile praticare tutti i mestieri all'interno di questa cinta che si chiude attorno al monastero, una cinta fortificata in cui il centro, il motore, il propulsore della vita spirituale è la chiesa con il monastero, il luogo, il cenobbio dove vivono i monaci. E in questo modo si creano nuclei di artigianato sempre più importanti che saranno molto spesso il punto di partenza di grossi borghi o addirittura di città. Le città nascono di fatto, le città medioevali, proprio attorno a questi borghi medioevali che erano praticamente costruiti attorno al monastero. Quindi non è difficile da qui capire come questo spirito benedettino profondamente cristiano abbia costituito il propulsore di una civilizzazione e come la civiltà sia sorta proprio dalla pratica di un cristianesimo che ha saputo incardinarsi in ogni ambito della società del tempo. Quindi il monaco è chiamato a diventare un uomo di preghiera e ad essa non deve anteporre nulla. E nulla si anteponga all'opera di Dio, scriveva San Benedetto. La santificazione per mezzo della preghiera è dunque l'occupazione principale del cenobbio. È un'attività che si estende per molte ore nell'arco del giorno. Non c'è nulla nella vita proposta da San Benedetto, di rilassato, di mondano, perché il compimento dell'opera di Dio richiede un grande impegno e la decisa volontà di perseguire una conversione a Dio che possa portare alla penitenza l'abbandono dei vizi e dei peccati. E quindi è proprio in questa luce che è possibile interpretare al meglio la scelta successiva, che è quella di dedicarsi alle attività tecniche, manuali, culturali, alle invenzioni, perché vedete che il monaco in fondo è la prova vivente di quanto la vita di preghiera e anche la vita attiva siano collegate, nonché di quanto di civile e di sociale possa scaturire dall'intimità di un cuore che prega, sia in privato che in comunità. Quindi la fondazione della città terrena non può prescindere dalla fondazione della città di Dio. Perché è evidente che c'è un movimento spirituale che dalla comunità entra nella singola persona, nel medesimo tempo, dal cuore dell'uomo, si irradia nella moltitudine. E se questi due respiri dell'anima e delle anime sono in Dio, l'uomo si salva e costruisce la propria dimora nel tempo, prima e poi nell'eternità. Quindi per quanto riguarda proprio i singoli beni, anche solo da un punto di vista materiale, è in qualche modo pacifico agli occhi del monaco, che la loro destinazione è universale, tutto questo apparato che nasce, questa civiltà che risorge, queste risorse che in qualche modo cominciano a svilupparsi sempre di più, anche questo benessere che torna. Perché guardate, il benessere, anche materiale, è una conseguenza dell'ordine spirituale. Rimesso ordine nella vita spirituale e nella società cristiana, torna inevitabilmente anche il benessere, che è esattamente il contrario di quello che succede oggi, in cui Dio è cacciato via dalla società, Dio è esiliato, l'uomo vive nel disordine morale e la conseguenza è un impoverimento progressivo, soprattutto delle persone che in questo momento sono rimaste fedeli, perché sappiamo perfettamente che tutte le risorse economiche oggi si concentrano nelle mani di coloro che sono avversi a Dio, mentre coloro che sono con Dio oggi vivono una stagione di grande infelicità materiale, ma che è un bene spirituale che ci prepara proprio a qualche cosa che sta profondamente iniziando a cambiare. E quindi offriamo queste sofferenze, offriamo queste difficoltà, sapendo quindi che c'è una ragione profonda, c'è una spiegazione che motiva le ragioni di questa sofferenza che noi viviamo oggi, però nella consapevolezza la riedificazione di una civiltà cristiana porta con sé anche tutto un grande benessere che non è un arricchimento selvaggio, ma è una situazione di stabilità, perché il fondamento proprio dell'ordine benedettino è quello della stabilità, di cui adesso toccheremo alcuni aspetti, ma parlavo proprio della destinazione dei beni, che è quella in relazione alla cura speciale verso i poveri, i pellegrini, che erano le persone che venivano assistite dai monaci, ma allo stesso tempo però guardate che l'ordine benedettino salvaguardava la proprietà privata delle terre, dei manufatti, degli immobili, dell'agronomia, per cui quello che era dei monaci resta dei monaci e quello che dei civili resta dei civili. Quindi la proprietà privata, che è un elemento essenziale della civiltà cristiana, deve essere salvaguardata, quindi di grande importanza, come si è visto, è lo spirito proprio di iniziativa personale e comunitario che prelude al principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà è un principio che noi abbiamo in qualche modo evidenziato in tante occasioni all'interno dei corsi che svolgiamo annualmente sulla dottrina sociale della Chiesa e quindi in base a questo principio di sussidiarietà tutte le società di ordine superiore, questo è il principio in sintesi, devono mettersi e porsi in un atteggiamento di aiuto, subsidium, di sostegno, di promozione, di sviluppo rispetto a quelle che sono le realtà minori, perché è impossibile promuovere la dignità della persona se non prendendosi cura della famiglia, dei gruppi, delle associazioni, delle realtà territoriali locali, in parole povere di quelle espressioni aggregative di tipo economico, sociale, culturale, ricreativo, professionale, politico, alle quali le persone danno spontaneamente vita e che rendono loro possibile un'effettiva crescita sociale. Quindi, nonostante il sostegno dovuto ai più deboli che rappresenta la sussidiarietà intesa in senso positivo, ci sono delle implicazioni in negativo che impongono alle società di ordine superiore di astenersi da quanto restringerebbe di fatto lo spazio vitale delle cellule minori ed essenziali della società. Quindi l'iniziativa, libertà e responsabilità di queste cellule non devono essere soppiantate e in questo senso la sussidiarietà è strettamente legata allo spirito di iniziativa personale e vedete che anche qui è esattamente l'opposto di quello che accade oggi, in questo statalismo sempre più imperante, in questa globalizzazione che invade tutti i campi, che toglie alla famiglia ogni libertà di iniziativa, che toglie al lavoro ogni possibilità di sviluppo, perché tutto è controllato, tutto è centralizzato, non c'è niente, il principio di sussidiarietà oggi è spugnato in radice e non va neanche dimenticato tra gli aspetti sociali che l'abbazia diventa in maniera progressiva un centro di aggregazione di famiglie, di educazione dei giovani, è anche un riferimento per le arti e i mestieri, perché l'arte nasce proprio in seguito allo sviluppo del monachesimo benedettino, pensate le grandi e meravigliose chiese romaniche, le chiese gotiche, nei paesi soprattutto del nord e dell'Europa, e da qui tutta la formazione di una galassia di corpi intermedi tra il sovrano e il singolo individuo che costituisce fino ai giorni nostri la garanzia del funzionamento ordinato di uno stato o di qualunque corpo sociale. E questo, vedete, è proprio questo principio di stabilità, di unità, è tutto l'opposto di quello che accade oggi nella società liquida, in questo principio che viene enfatizzato di nomadismo imperante, non c'è più una persona che possa lavorare stabilmente in un posto perché minimo deve fare 40 chilometri se non addirittura andarsene all'estero, perché noi non siamo più cittadini di una realtà locale, non siamo appartenenti a una famiglia, non siamo appartenenti a una città, a una nazione, a uno stato, siamo cittadini del mondo, siamo abitanti dell'universo, siamo membri di un mondo fluido, un mondo in cui non c'è più nulla di stabile. E' stato proprio anni fa Vittorio Messori che ci ha ricordato l'importanza per il monaco e per chiunque voglia costruire qualcosa di duraturo, di quella che in latino si chiamava la stabilitas loci, cioè la stabilità del luogo. San Benedetto infatti, guardate, impone ai suoi monaci il voto della stabilità, cioè del luogo. In questo modo il monastero diventa un punto fisso di riferimento, diventa il perno saldo attorno al quale la società si può organizzare, ma diventa anche una fortezza contro le forze di sgregatrici sempre in agguato, e non a caso scrive che l'organizzazione monastica prende il nome dal contrario stesso del caos, ordo, ordine, contro il disordine che è di coloro che sono senza fissa dimora, i vagantes, contro i quali San Benedetto ha parole severe. Pensate com'è diverso e lontano questo spirito da quello di oggi. E infatti la città dell'uomo, la città di Dio, è tale per la presenza di dimore, che sono composte da vestiboli, corridoi, cucine, stanze. E la stanza in particolare è dove l'uomo sta, stanza, dove l'uomo sta, vive, pensa, studia, lavora. E anche la sacra scrittura medesima dà molto importanza al tempio, alla dimora, alla tenda, nel deserto, al cenacolo. Il focolare domestico comunitario è così posto non soltanto nell'ambito secolare, ma in quello divino e salvifico. Il nomadismo di contro è una condanna che Dio infligge al suo popolo, osserva Messori. Persino Gesù è costretto a dire che le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo, i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Quando San Benedetto salì a Cassino, insomma, non ci andò per passarci, per passarci, ma ci andò per rimanerci. E dice San Gregorio Magno che il paese di Cassino è situato sul fianco di un alto monte e c'era in cima un antichissimo tempio dove la gente dei campi, secondo gli usi degli antichi pagani, compiva superstiziosi riti in onore di Apollo. E intorno ci crescevano boschetti che erano sacri e demoni, dove ancora in quel tempo c'era una fanatica, una folla di infederichi che vi apprestava sacrileghi e sacrifici. Quindi dopo aver distrutto gli idoli e aver edificato una chiesa, San Benedetto si rivolse alla gente che abitava all'intorno e con un'assidua predicazione andava invitando la gente alla fede e alla conversione, come siamo lontani dallo spirito di oggi. Ma vedete che in quella stabilità sloci, in quella stabilità, si edificarono nel corso della vita le virtù del sacrificio e della perseveranza, perché si era in qualche modo costritti a vivere insieme ad altre persone, quindi a sopportarne i limiti, i difetti. Si riceve molto dalla comunità monastica, che è un supporto, un'edificazione, una cura, ma è richiesta anche la rinuncia alla propria volontà, al proprio desiderio di autosufficienza, perché lì in quel contesto viene temprato il carattere, si forma l'umiltà, se non altro perché è richiesta l'obbedienza all'abbate. La stabilità è talmente importante per il monaco che non è bene accettare nel monastero quei postulanti che non diano sicure prove di voler perseverare. E in questo senso la stabilità è una delle tre promesse del postulante, assieme alla conversione continua e all'obbedienza. Bene, cari radioascoltatori, credo che questa riflessione sullo spirito benedettino, che fu all'origine proprio della nascita della civiltà cristiana medievale, viene in qualche modo richiamata in alcuni passi molto interessanti delle opere e delle prediche di Benedetto XVI, che era un grande coltore di di questo santo San Benedetto e che oggi vengono raccolte per la prima volta in un libro molto interessante, che fra pochi esce proprio in questi giorni nelle librerie, si intitola Per amore, un libro scritto da Benedetto XVI e che è praticamente il riassunto di tante prediche del tempo liturgico, quelle dell'Avvento, quelle della Quaresima della Pasqua e del Natale. Un libro di 192 pagine, costa 17 euro, messo in vendita dal 2 maggio, edito dalla libreria editrice Vaticana e Cantagalli, quindi Benedetto XVI per amore, libro che raccoglie queste prediche molto interessanti. Dicevo che nelle riflessioni fatte da Benedetto XVI ci sono continui richiami a questo spirito benedettino. Cito questo perché c'è qualche cosa di profetico, direi, e di assolutamente significativo, con cui, e questa è una mia intuizione o potrei dire impressione personale, Benedetto XVI voleva delineare una strada, un tracciato, un percorso che verso cui i cristiani, rimasti fedeli in quest'epoca di turbolenza e di confusione, si sarebbero dovuti incamminare. E in questo capite che c'erano tanti richiami che Benedetto XVI faceva alla terra, al lavoro, alla giusta concezione del creato, alla edificazione di una civiltà cristiana nello spirito di San Benedetto. E ve ne cito solo qualcuna, estrapolata da questo libro, che vi ripeto è un libro interessante, che vi invito a leggere per amore, Benedetto XVI, in cui dice che Benedetto XVI tutte le invenzioni tecniche possono essere o benedizione o maledizione per l'umanità. E oggi vediamo sempre più questa ambiguità della tecnologia moderna. La tecnica in sé, dice Benedetto XVI, pensate proprio all'opera dei Benedettini, in quell'epoca straordinaria, la tecnica è così qualche cosa che può essere buono o cattivo, come è buono o cattivo l'uomo stesso. Dove l'uomo perde se stesso, la dominazione della terra diventa distruzione della terra. Dove l'uomo perde se stesso, la sua capacità tecnica diventa una minaccia diretta contro la sopravvivenza del genere umano. L'uomo perde se stesso quando dimentica il suo creatore Dio. Dimenticando Dio, non sa più decifrare il messaggio della sua natura, dimentica la sua misura e diventa per se stesso un enigma senza risposta. Quando dimentichiamo Dio, le cose diventano mute, sono solo materiale per fare qualcosa, ma senza un perché, vuote di ogni significato più profondo. Se ritorniamo a Dio, le cose cominciano a parlare. La scrittura ci dà due immagini di una vera dominazione della terra, il giardino e la città santa. Il giardino esprime un'amicizia reciproca tra terra e uomo, l'armonia della creatura. Dove l'uomo è retto, la terra dà il suo frutto, la terra diventa giardino e patria. Quindi il lavoro per il pane naturale, dice Benedetto XVI, prepara anche il pane soprannaturale e si estende così anche alla preparazione della vita eterna. Il nostro lavoro e la bontà di Dio si incontrano nel dono della terra, nel pane e nel vino. Il nostro lavoro diventa Eucaristia. La bontà di Dio crea pane dal nostro lavoro e la stessa bontà trasforma, rispondendo alla nostra preghiera. Il pane terrestre, il nutrimento di vita eterna, lo converte in corpo di Cristo. E così vediamo il valore del lavoro e della preghiera. Andando insieme creiamo una nuova terra. Vedete che si configura l'idea proprio del messaggio di San Benedetto, quell'ora et labora. Il valore del lavoro e della preghiera insieme al lavoro della terra. Andando insieme creiamo una nuova terra. Il nostro lavoro prepara la presenza di Cristo, diventa nutrimento della vita eterna. Questo è quello che oggi molti cattolici che stanno riflettendo sulla gravissima situazione presente, iniziano sviluppando una riflessione che è prima di tutto una riflessione che ci aiuta a capire il contesto e la gravità della situazione presente per poi porre le basi e le radici di un'azione che dovrà probabilmente un giorno concretizzarsi in qualche cosa di molto particolare che la provvidenza indicherà. Tra i tanti discorsi di Benedetto XVI ce ne furono alcuni che riguardavano proprio il richiamo alla terra. Ci fu un'occasione in cui Benedetto XVI disse ai giovani considerate l'importanza della terra, il ritorno alla terra. La terra come uno strumento attraverso cui di trovare un ordine anche per sfuggire a questo nuovo modello di vita tecnicistico e informatizzato fino all'esasperazione. Non che questi siano strumenti cattivi ma sono strumenti che certamente in un utilizzo non ordinato ci allontanano pericolosamente da Dio. e quindi questo richiamo direi quasi profetico ci ricorda quella che oggi, dicevo all'inizio della nostra trasmissione, viene definita come questa opzione Benedetto. Un'opzione Benedetto ricordo ancora che è una riflessione che nasce dalle difficoltà presenti dall'azione di San Benedetto di fronte al crollo dell'impero romano in cui rinacque in quelle modalità e in quel contesto proprio la civiltà cristiana. Questa è la riflessione che sottopongo cari radioascoltatori alla vostra attenzione nella certezza che è proprio dalla consapevolezza, dalla riscoperta di una consapevolezza, di una profondità che dobbiamo ritrovare anche nelle modalità della nostra vita che è prima di tutto una vita spirituale ma che poi si traduce in un'azione concreta che possiamo iniziare a immaginare un percorso per ricostruire una civiltà cristiana sotto naturalmente l'impulso di Dio, sotto l'aiuto dello Spirito Santo ma soprattutto sotto la guida di colei che sarà la debellatrice di questo caos in cui viviamo, la Vergine Immacolata debellatrice di tutte le eresie e colei a cui è stato garantito il trionfo del cuore immacolato, del suo cuore immacolato. A tutti voi cari radioascoltatori l'augurio di una buona settimana laudetur Iesus Christus.